amici benvenuti su infonews questo è un momento dedicato all'intervista siamo in contatto diretto più che diretto proprio a fianco a me abbiamo un personaggio simpaticissimo poi lo deciderete voi se è così quello che io vi dirò è antonello ricci inquadriamolo così lo vediamo eccoci qua sei tu sei tu sei tu sei tu no perché hai detto simpaticissimo benvenuto altorello grazie assai diciamo per l'ospedale per essere sempre ospedale con me diciamo in tutte le cose parliamo di una tua bellissima realizzazione di un film che è uscito proprio in questi giorni e questo film finalmente possiamo vederlo parlaci un po di questa storia perché perché dico perché quel nulla demente di antonello ricci e secondo te uno che guardandomi diciamo non esce spontaneo di anche se non sa il titolo del film che guardando antonello ricci guardandolo guardate che cosa vi ispirare che titolo può ispirare una cosa del genere un personaggio che non ha niente da perdere è uno che non ha niente proprio e va diciamo diciamo l'unica cosa che ti diciamo che c'è bello ma è un boccato abbiamo una locandina che alla nostra sinistra noi possiamo già inquadrare è un'esclusiva di bluestar tv sul canale 16 del digitale terrestre antonello ricci con puntate in miniserie tante risate il ciuffettino alla bebè sono 12 puntate 12 12 puntate il lunedì il mercoledì e venerdì i giorni dispari che quando non avete niente da fare potete tranquillamente sintonizzarvi sul canale 16 del bluestar tv che è un canale digitale terrestre che ora alle 21 alle 20 di sera praticamente nel mercoledì si dicevamo alle 21 quando ha detto alle 21 mi sono ricordato le 21 di sera nel caso qualcuno dovesse perdersi qualche puntata in tutto questo lungo periodo di 12 mini serie e spieghi ed ecco volevo dire perché se per lui a luglio a luglio abbiamo le abbiamo quindi lunedì mercoledì il mercoledì e venerdì alle ore 21 cioè alle 21 di sera per quattro settimane dal mese di maggio al mese di giugno le potrete seguire tranquillamente tranquillamente a luglio le repliche altrimenti è state proprio scartate proprio completamente oppure ditelo chiaramente non mi volete vedere allora se non mi volete vedere invece così invece così soggetto e ideazione di antonio ricci antonio ricci perché antonio ricci perché il pantonello perché antonio è il vero nome alla naga febbiciano per come quando sono nato io che non dovevo nato però purtroppo ci sono il 13 giugno verremo qui a farti gli auguri a santo antonio quindi antonio ricci è il mio nome d'arte che mi chiamano da piccoli la sceneggiatura la sceneggiatura di donata frisini la regia mimmo mastandrea attori attori i diciamo quali che ti ricordano mi raccomando se qualcuno se ne dimentica non è colpa mia ma è colpa sua perché lui è quel nulla ovviamente che gli autore lo ricciano vabbè antonio ricci sono il protagonista insieme con tica frisini donato nata frisini lia c'è la mare franco de giglio giustina buon uomo e diciamo e vanessa del icono lino de nicolò pino fusco e aspettano di nicola noi a cono due diciamo dei altri due personaggi del altri due tre personaggi vito cassano un paio delle battagliere pur lo vino la vita 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 di chiaramente quel mio compagno di vita diciamo vita diciamo ce la facciamo insieme vita antonio mazzelli quelli che ha dimenticato sempre colpa sua vogliamo anche dire ai nostri amici che stanno seguendo questa intervista video perché oltre a vederci potranno anche ascoltarci e neanche molto bello questo su 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 canale 93 oppure eventualmente su iphone news la città di frani in diretta ci potete seguire online perché noi siamo in streaming in tutto il mondo oggi dicono queste parole on the world io non capisco il termine tetto perciò di però dire che noi siamo streaming streaming no ma tu hai un account tu hai una caccia un account che si tratta l'account è un nome c'è un dato un che caldo profilo c'è il profilo è un poco scattato la voglia di ritirlo su su un social network e se si faccia me se ciò comico antonio lorici a ce l'hai che diceva ecco quanto non è comico lo decide condividetelo poi eventualmente andate su una pagina che abbiamo poc'anzi inquadrato voi chiedete l'amicizia pagando diciamo no no non c'è da pagare niente assolutamente no pagando io a loro ingresso libero ingresso libero e io vi do i soldi basta che mi dite una domanda come mai hai scelto di andare in tv e questa volta bluestar tv perché era lui che l'ha accettato la sincerità voglio dire ha creduto in te ha creduto l'unico ha creduto no devo dire ha creduto in me molto il regista Mimmo Mastandrea che sappiamo ciao Mimmo che oltre è un pezzo grosso pezzo proprio davanti a un pezzo grosso pezzo grosso e però è bravo e cosa ha creduto in me come a parte gli scherzi ha creduto in me anche Cosimo Quaranta di Brustale dove è stato ambientato tutto questo film e ci tengo a precisarlo il film è ambientato a Trani solo che ci sono delle scene diciamo in Puglia dove ho voluto comunque sempre nella provincia di Pari ecco come inizia questo film con benvenuti a Trani città della pietra cominciano con una sigla iniziale mia come come qual è qual è il re del palbozzano sentiamo io da piccolino che ho cominciato a palbettare e tutti dalle risarmi scomigiavano a creare allora ho pensato che dovevo pensare che una soluzione dove dovevo trovare se il detto dice che lo zon possa ballare il palbozzano sa cagà sa cagà sa cantare allora ho capito che per riuscire a parlare dovevo cagà cagà cantare e ripare grazie appuntamento con il nostro Antonello Ricci con quel nulla demente di Antonello Ricci su blu star tv canale 16 canale 16 digitale terrestre quando è scirocco così qua è brutto vicina anzi oggi sto andando bene lunedì mercoledì e venerdì dicino qua che a lui ci sto prendendo la macchina che va a cagliare a cagliare ogni lunedì mercoledì e quattro settimane cosa a luglio alle 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 21 cioè alle le nove di sera tu non ne far capire per le cose mi raccomando quella è e e e e e e e guardate guardate la te invece ne saltiamo salutiamo salutiamo posso salutare puoi salutare saluti a tutti saluti a tutti saluti a tutti a tutti a tutti a tutti a tutti e a titti che sta dietro a riprendere ecco grazie sta facendo una maniera perché la nostra cameraman ha ripreso tutto ha ripreso tutto noi anche se noi ci dovremmo riprendere noi dallo shock baci a rivederci alla prossima occasione film ambientato a trani canale 16 bluestar e vittorio casinesi diciamo e antonello ricci con il suo soggetto importante ricordate quel nulla demente di antonello ricci grazie a tutti alla prossima occasione ciao perché hai voluto precisare anche bene 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 ma vediamo